Ciao da Asim, Juventus Fiorentina oggi alle 20.45 questa domenica 7 aprile e proseguiamo con gli spunti di riflessione e di meditazione. Abbiamo fatto fin qui un percorso dal 19 febbraio quando insieme a parlare di cervello quantico della possibilità di modificare la realtà che ci circonda il nostro universo un percorso che abbiamo fatto insieme che avete fatto con me che avete fatto con voi stessi e io con voi e io con me stesso e grazie per la fiducia e la partecipazione fin qui e in questo percorso rispetto al quale non c'è molto da aggiungere oggi se non da riepilogare alcuni aspetti e aggiungere solo qualche qualche piccolo spunto abbiamo infatti visto abbiamo scoperto come possiamo effettivamente incidere sulla realtà perché le cose come sono andate da che abbiamo iniziato sono andate benissimamente male sono andate come dovevano andare come dovevano andare per quello che era il nostro intento per quella che era la nostra volontà per quello che era il nostro scopo che cerchiamo di raggiungere ma che esiste già esiste già l'evento nel futuro della liberazione della Juventus la liberazione della Juventus comunque vada declinata comunque vada a specificarsi a cadere a collassare letteralmente nella realtà l'abbiamo creato noi quell'evento quella situazione ognuno con ognuno con la propria sfaccettatura perché stiamo guardando un prisma stiamo osservando o magari anche una sfera ognuno dalla propria prospettiva e quindi per tutti quella è una sfera anzi in realtà è un cerchio da come lo vediamo ma da punti diversi ma tutti stiamo partecipando a creare quella sfera tutti stiamo partecipando a creare quella situazione quel momento quel momento spazio temporale che esiste già dobbiamo solo capire qual è il percorso da fare che poi quello è tutta la vita in realtà è già tutto successo c'è tutto in un eterno presente e noi sperimentiamo il tempo per capire che cosa siamo che cosa abbiamo creato e dove stiamo andando e quindi ci muoviamo ci sembra di muoverci verso quello che già esiste e con con la juventus molto più banalmente molto più praticamente e con allegri con la liberazione della juventus succede allo stesso modo è già stata liberata ma dobbiamo capire come dobbiamo capire perché e abbiamo chiesto e stiamo ottenendo che l'universo ognuno ognuno di noi l'universo per ognuno di noi per ciascuno di noi ci dia quel pezzettino di realtà che si va a comporre che si va a realizzare e quindi è necessario cosa necessario non giusto non giusto smettiamola con questi giudizi di valore con questi con queste condanne o con questo autosabotaggio non è giusto non è sbagliato è necessario o non necessario è necessitato determinata determinato determinato evento un determinato passaggio è necessario perché è necessitato per andare al passaggio successivo che cosa e lo abbiamo visto pareggiare quella partita perdere quell'altra vincere quella partita adesso anche vincere in coppa italia nella semifinale io come avevo detto e non per avere ragione dicendo tutto il contrario di tutto così alla fine ci becco comunque no perché il punto è proprio quello e oggi infatti parliamo di questo parliamo del disinteresse il tema di oggi è il disinteresse è il lasciare andare è il lasciar cadere è il lasciare che accada quello è l'approccio dire no la semifinale di coppa italia dobbiamo assolutamente perdere dobbiamo assolutamente perdere la juve deve assolutamente perdere perché solo se perde ci liberiamo di allegri che magari lo cacciano subito vedete che cosa abbiamo vissuto vedete cosa abbiamo vissuto martedì scorso 2 aprile abbiamo vissuto delle ore concitate in cui sembrava veramente che allegri lo stessero cacciando da un momento all'altro e che la sconfitta avrebbe significato l'esonero immediato questa cosa però non poteva che avere un contraltare non poteva che essere controbilanciata sovracompensata da che cosa dall'accadimento contrario allora lo vedi che cosa succede lo vedi questo è proprio in piccolo quello che in grande successo l'anno scorso insistere sull'esonero l'esonero 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 come unica soluzione in quel momento se non va così non va più e diciamo più che il fatalismo è proprio l'autosabotaggio il darsi ragione nell'avere torto l'auto l'autosabotarsi l'autodistruggersi che cosa ti porta infatti all'evento negativo che cosa è successo la juventus ha vinto e quindi non c'è stato l'esonero evento negativo nel senso non che non andava bene non che era brutto cattivo sbagliato no negativo rispetto cioè non c'è stato l'esonero cioè la negazione dell'esonero negativo quindi non esonero perché perché la juventus ha vinto poi noi non sapremo mai se effettivamente con una sconfitta e magari una brutta sconfitta nella semplicemente andata di coppa italia contro la lazio il 2 aprile l'allegri sarebbe stato davvero esonerato quell'universo lì non ci siamo entrati quell'universo lì non lo abbiamo voluto abbastanza quindi non lo abbiamo voluto del tutto e quindi non lo abbiamo creato ma abbiamo creato e perché evidentemente abbiamo creato un altro universo in cui quell'evento lì era conflittuale non si conciliava però vedete le cose come si autocompensa no non poteva che succedere quello anche perché chi è che ha parlato incredibilmente di esonero immediato di esonero imminente anche quelli che non hanno mai parlato di esonero anche quelli che non sono d'accordo ecco che si sono autosabotati perché adesso magari sono ancora più in difficoltà dopo aver detto ecco ci siamo lo stanno cacciando stasera si perde e quindi lo cacciano e poi che cosa dicono non si è perso allora adesso può restare si sono creati da soli la difficoltà ma noi non dobbiamo entrare in queste cose dobbiamo essere superiori proprio nel senso di staccati cioè a noi non frega nulla se la lazio batte la juve e come e perché e anche adesso la fiorentina parlando di juventus fiorentino non è quello il punto l'abbiamo già capito è chiaro che ci auguriamo che la juventus possa perdere se è utile se è necessario noi ne abbiamo parlato cerchiamo di visualizzare questo e continuiamo con questi esercizi tagliamo il filo sottile che lega ancora allegri alla juventus visualizziamo che cosa faremo il 15 giugno visualizziamo ancora continuiamo con questa visualizzazione il 15 giugno immaginate vedete visualizzate di essere il 15 giugno una data che abbiamo determinato per star tranquilli per avere ampio margine in tutti quelli che possono essere gli accadimenti sul sul cambio di allenatore della juventus quindi sulla liberazione della juventus e quindi il 15 giugno aprite un social che abitualmente aprite lo aprite visualizzate quell'immagine lo aprite e trovate che l'allenatore della juventus è un altro c'è un altro c'è un nuovo allenatore alla juventus e potete anche immaginare chi sia chi volete chi volete che sia poi non necessariamente sarà quello magari sarà uno che gli somiglia sarà uno che farà fare poi sorprendentemente perché non ce l'aspettiamo a quella sua juve lo stesso calcio che avrebbe fatto fare quell'altra quell'altro allenatore nelle nostre ipotesi e quindi aprite un social inviate un messaggio ricevete un messaggio guardate un un immagine magari su un giornale ascoltate qualche cosa guardate un video su youtube quello che farete il 15 giugno perché l'avete già fatto e lo state facendo adesso e lo state facendo collassare ora per quando sarà nel futuro che non è futuro e questo ancora lo continuiamo a fare e tagliamo quindi abbiamo detto il filo visualizziamo anche nuovo al juventus nuovo allenatore visualizziamo siamo a primavera 2024 e ci siamo è primavera 2024 la juventus appena annunciato il nome del suo nuovo allenatore che non significa che lo fa appena arriva la primavera che è già passato l'ingresso della primavera ma durante la primavera in qualsiasi giorno della primavera compreso il 15 giugno la juventus ha appena annunciato il nome del suo nuovo allenatore e poi juventus quinto posto visualizziamo ancora juventus quinto posto e infatti che cosa sta succedendo guardate con la visualizzazione juventus quinto posto che cosa succede che allegri attrae la juve verso il quinto posto anche nelle dichiarazioni noi non stiamo dicendo attenzione che la juve deve fare quinto posto che il quinto posto è il bene della juve noi non lo sappiamo anche se in realtà inconsapevolmente lo sappiamo perché lo abbiamo già visto vissuto e creato addirittura prima di viverlo semplicemente stiamo dicendo c'è questa situazione juventus quinto posto quindi il peso di queste parole l'associazione di queste parole e le parole sono vita e le parole sono energia e le parole sono molto di più le parole sono creazione come il suono come il suono e con questa associazione di parole stiamo aumentando la possibilità che si attraggano questi elementi in un qualunque significato nel significato che la juve si trova al quinto posto nel significato che la juve rischia di andare al quinto posto oppure nel significato che allegri parla di quinto posto vantaggio sul quinto posto parla di vantaggio sul quinto posto parla di fare quarti senza neanche provare a fare terzi mentre è terzo parla di 20 punti di distacco dall'inter come una squadra che è appunto al quinto posto perché 20 punti può stare addirittura sesto quando hai 20 punti di distacco dal primo quindi in alcuni casi pure settimo dipende dalla dipende dal campionato e dipende dalla classifica allora questa visualizzazione continuiamo a farla ma appunto parliamo di disinteresse un caro amico mi ha detto l'altro giorno io ho guardato tutto il tuo episodio di propaganda max numero 31 tutto l'episodio 31 di oltre due ore anche se a me della propaganda non ne ne frega nulla perché l'ho data per acquisita l'ho data per assodata non ho bisogno di conoscerla non ho bisogno di scoprirla non mi interessa ma ho guardato tutto l'episodio e l'ho guardato e l'ho seguito non superficialmente perché meritavi attenzione per il grande lavoro che hai fatto e quindi per dare rispetto a te che ci hai messo tutto quell'impegno a fare tutto quel lavoro io mi sono sentito in dovere di guardarlo io questo caro amico l'ho ringraziato ma io ho anche detto guarda che ti ringrazio di più la prossima volta se mi dici io l'episodio non ho voluto guardarlo perché non me ne frega nulla e io ti ringrazio ancora di più per la tua libertà questo per portarvi un esempio di disinteresse di distanza ma non disinteresse nel senso di abbandono disinteresse nel senso di non coinvolgimento il non coinvolgimento crea molto di più di positivo del sentirsi coinvolti allora cerchiamo di uscire da questo allora anche questo per dire che cosa che il mio miglior follower è chi non guarda i miei video no il mio miglior follower è chi guarda i miei video neanche il migliore è quello che quando sente il bisogno la volontà di guardare un mio video lo guarda quando non sente il bisogno la volontà di guardare o quando sente il bisogno la volontà di non guardare non lo guarda quello è il grande rispetto di se stessi e quindi e quindi mio rispetto per me perché avete rispetto di voi stessi della vostra autonomia di giudizio di pensiero della vostra libertà di azione della vostra volontà capite che cosa volete veramente la stessa cosa per quanto riguarda la juventus sentirsi legati non nel senso di smettere di interrompere il legame di spezzarlo come tagliamo il filo che lega allegri alla juve ancora nel senso di indifferenza indifferenza quindi non non curanza indifferenza cioè non mi cambia non mi cambia io sono tifoso amo la juventus ecco poi ci sarebbe tantissimo da dire su che cosa sia poi l'amore e l'amore per una squadra ma ti sei collocato in questa situazione ti collochi nella situazione in cui tu ami la juventus bene in realtà ami te stesso nella juventus ami te stesso nella juventus perché quello è il meccanismo dell'amore ma va bene però vuoi restarci bene nella nell'esplicazione nella pratica nella concretezza di questo amore e quindi di questo legame non c'è per forza che tu devi guardare la partita e devi tifare e devi sperare che vincano no c'è c'è di tutto ci può essere tutto dipende dalla singola situazione e dalla tua volontà quindi esprimi la tua volontà la tua volontà può anche essere non mi importa se la juve vince pareggia o perde non mi importa se va bene o va male se gioca bene o gioca male perché quello che so è che tutto quello che succede oggi in juventus fiorentina come è successo il 2 aprile con la lazio come succederà sabato prossimo con il torino è necessario perché è un passaggio nel percorso che io ho creato e sto creando insieme ad una comunità insieme ad un gruppo per arrivare alla liberazione della juventus e quindi io accetto tutto accetto tutto con gratitudine ma partendo dalla non curanza dal non coinvolgimento emotivo segna la juve ok segna la fiorentina ok non segna nessuno ok vince la juve ok vince la fiorentina ok pareggiano ok stiamo andando a scoprire capite stiamo andando a scoprire quello che serve non possiamo decidere prima quello che serve perché altrimenti non lo otteniamo è proprio quando non ti interessa più che ti arriva ti arriva quando perché è molto è molto semplice in realtà perché quando ci fissiamo con un'idea la andiamo a compensare la andiamo a compensare perché tutto deve essere simmetrico perché tutto deve essere in equilibrio e quindi ecco perché dire che uno non vuole quell'allenatore e lo vuole cacciare non funziona per cacciarlo perché nel momento stesso in cui lo stai dicendo stai creando il suo posto che lo va a compensare e di conseguenza non lo tieni nel momento in cui invece ti stacchi da quella dualità e tu sei superiore e non sei coinvolto e non ti interessa nello specifico se quell'allenatore viene cacciato o meno ma ti visualizzi ti sintonizzi sul messaggio positivo io voglio un allenatore io voglio un allenatore comunque sia tu lo allenatore lo ottieni perché lì stai creando già una situazione di per sé simmetrica e compensata che non viene zavorrata che non viene attratta magneticamente dalla dalla sua dal suo opposto che va praticamente ad azzerare il tuo sforzo perché un tuo il tuo sforzo che già nasce equilibrato nel momento in cui tu in maniera indifferente dal dall'evento specifico che si viene poi a creare e che viene che vai a vivere hai semplicemente inviato questo messaggio hai semplicemente visualizzato questo scopo questo obiettivo che la juventus abbia un allenatore in qualunque modo e quindi è l'emotività mancante capito e l'emotività mancante che non essendoci non va compensata mentre la rabbia l'indignazione l'odio il fastidio il rancore l'insofferenza perché perché se ne deve andare perché allegri se ne deve andare poi la andiamo a compensare anche nel dualismo del dibattito tra di noi della spaccatura della tifoseria e quello poi crea ulteriori necessità di compensazione e come semplicemente avere bisogno ecco il discorso è avrei più banalmente potuto dire se fossi stato più bravo il bisogno non dobbiamo più avere bisogno dobbiamo rimuovere il bisogno il bisogno che la juve perda il bisogno che allegri se ne vada cerchiamo di spegnere piano piano di assottigliare piano piano questo bisogno noi non abbiamo bisogno il nostro bisogno ce lo appaghiamo da soli andando a realizzare quello che vogliamo e quindi chiedere continuare a chiedere ed esprimere appunto questa questa necessità questo bisogno non fa che portare alla compensazione opposta non fa che dare forza al contrario allora il disinteresse come e come dicevo settimane fa se non siamo in grado di seguire la juve che si guardi o meno la partita quindi magari anche con gli aggiornamenti delle delle varie app senza questo bisogno continuo assillante di vedere che che segni la squadra avversaria non seguiamo la juve cerchiamo di non seguirla chi non è in grado di seguirla con distacco senza coinvolgimento emotivo non segue la juve perché se avete l'obiettivo se siamo tutti insieme nell'obiettivo della liberazione della juventus e vogliamo dare un contributo ciascuno per sé a tutti e a questo evento c'è bisogno che chi è in grado di seguire la partita senza coinvolgimento come ho fatto io in live reaction insieme agli amici di juventus tv martedì per juventus lazio di coppa italia allora segua la partita chi è in grado di stare in equilibrio in questo chi invece ha ancora quel bisogno chi sente di doverla guardare per tifare contro fa un danno a se stesso e frena anche la realizzazione di quello che vogliamo perché da forza all'opposto da questo punto di vista e non ne parlo in questo episodio ma ci sono tutti i precedenti sulla meditazione c'è la compensazione appunto con l'amore per la squadra avversaria quindi dicevo sostituiamo il tifo contro con l'amore per la squadra avversaria con il tifo a favore della squadra avversaria con tutti i significati che in questo caso può avere per esempio la fiorentina e vi invito comunque chi vuole visto che manca qualche ora a stasera a fare una meditazione una riflessione anche quattro chiacchiere con qualcuno relativamente al bene della fiorentina ai vantaggi che la fiorentina a quello di cui la fiorentina ecco ha bisogno in questo senso ci mettiamo dall'altra parte andiamo noi a compensare il bisogno della fiorentina ecco come funziona andiamo a compensare il bisogno della fiorentina per quello che serve alla fiorentina per quello che la fiorentina in qualche modo merita ma merita non nel senso di giusto sbagliato bensì nel senso di avere creato un valore che va a sua volta compensato con qualcosa che si attrae e quindi se tu prepari bene le partite ti alleni bene giochi bene attrai la tua vittoria che ti va a compensare perché si trova in simmetria in questo senso dare dare questo cercare di dare questo alla fiorentina in maniera disinteressata però disinteressata con il disinteresse quindi con il non coinvolgimento cioè vada come vada l'amore si compensa da solo allora spingiamo solo perché si vada in quella direzione e quindi la fiorentina ha bisogno di una vittoria merita una vittoria la il suo gioco l'amore che possiamo dare alla fiorentina per quanto si possa amare la fiorentina da giuventini però capite qui stiamo uscendo dalla dualità e dalla rivalità allora bene si vada in quella direzione poi sarà la realtà sostanzialmente a dispiegarsi a realizzarsi senza appunto partire con il bisogno che la fiorentina vinca punta punto senza cercare di capire siamo invece per siamo invece qui per scoprire che cosa accadrà perché già accaduto ma perdona per sentire troppo questo appuntamento mi fermo perché gli spunti li abbiamo ripresi tutti quelli che abbiamo già esternato e che abbiamo già messo in campo letteralmente nelle settimane precedenti quindi chi mi ha seguito già sa chi non mi ha seguito può recuperare gli episodi precedenti a questo punto penso che farò anche una playlist o un podcast anzi nel momento in cui ve lo sto dicendo ora l'ho già fatto nel futuro quindi poi dal futuro la trovate la troverete con le meditazioni proprio perché altro per dare per dare un filo a chi arriva dalla fine e vuole recuperare il pregresso il precedente vedere quali sono i passaggi che abbiamo fatto quindi chi ha già partecipato già sa già gli strumenti utilizziamoli ci sono tanti elementi simbolici che però come simbolo danno forma danno vita chi non sa può recuperare o dare il suo contributo e quindi grazie per la vostra attenzione ma siate grati a voi stessi per quello che avete fatto e state facendo creando la vostra realtà in cui c'è la liberazione della juventus grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie grazie grazie